Ciao bella accoglienza, ci stanno riuscendo di sempre. Sì, sì, bravigliosi, siamo arrivati tutti, però sono infine dalle otto con te. Credo sia un po' di te, il riscontro di quello che è stato fatto, tocchi con mano il pubblico come percepisce il tuo lavoro. Beh, una grande solistazione, credo, è il risultato in mezzo. Beh, una grande solistazione, credo, è il risultato in mezzo.